Dopo qualche settimana siamo tornati in località Creta, dove prima c'erano soltanto buche e ora c'è l'asfalto. Sicuramente migliorate le condizioni di chi abita proprio su questa strada, ma anche di quegli automobilisti che la utilizzano per andare da Grotta Minarda ad Ariano Irpino. L'investimento del comune di Ariano Irpino è stato di oltre 120 mila euro, ma con trada Creta finalmente ha il suo manto stradale. I lavori sono andati avanti per oltre un mese, ma ora quella che solo poche settimane fa si presentava come una strada sterrata e distestata, oggi è percorribile in tranquillità. Una vera e propria boccata d'ossigeno per i residenti, ma anche per gli automobilisti che si muovono da e per il Tricolle, che ora possono evitare il traffico di cardito. L'arteria infatti collega Ariano Irpino con Melito e dunque con Grotta Minarda, ed è la sola alternativa alla SS90. I lavori hanno interessato il tratto più danneggiato della strada, quello che in pratica arriva fino al confine con Melito. Mancano però ancora la segnaletica orizzontale e verticale, così come la sistemazione di alcune cunette e di perdite d'acqua. A questo intervento infatti dovrebbe seguirne un altro, come era stato chiaramente ribadito in sede di approvazione del progetto. Innanzitutto però bisognava assicurare le condizioni minime di transitabilità della strada, in attesa di poter disporre di un finanziamento regionale capace di eliminare tutte le criticità esistenti. Adesso si attende naturalmente che l'alto calore possa portare a termine anche i lavori per la sistemazione di una parte residua della rete idrica.